Alessandro Aricò è il nuovo assessore della giunta musumeci a formazione e istruzione al posto di La Galla. Reazione negativa degli alleati di governo. Giuliana Miciche. Alessandro Aricò, capogruppo del movimento, diventerà bellissima all'Assemblea regionale siciliana e il nuovo assessore regionale all'istruzione e alla formazione. Il presidente della regione, Nello Musumeci, lo ha scelto al posto di Roberto La Galla, che si è dimesso due mesi addietro per candidarsi a sindaco di Palermo. È stato quindi colmato il voto in giunta con 11 assessori sui 12 della pianta organica. Musumeci ha finora mantenuto lui la delega. Per Alessandro Aricò, palermitano, si tratta del secondo ingresso in giunta dopo l'esperienza con Raffaele Lombardo, a fianco del quale è stato assessore a territorio ambiente. Normale avvicendamento? No, anzi, gli alleati di governo insorgono, come un fulmine a ciel sereno. Nino Minardo, segretario regionale Lega Prima l'Italia, Gianfranco Miciche, commissario regionale Forza Italia, Massimo Dell'Utri, coordinatore Noi con l'Italia e Roberto Di Mauro, coordinatore autonomisti, hanno diffuso un intervento congiunto in cui si legge. La nomina di Alessandro Aricò, persona rispettabilissima ad assessore alla formazione e alla vigilia delle elezioni amministrative, non è solo inopportuna da un punto di vista politico, ma conferma, qualora ve ne fosse bisogno, la deriva presa da Musumeci che sceglie ancora una volta il modello dell'uomo solo al comando piuttosto che il dialogo con chi lo ha eletto e sostenuto. Di tenore opposto è il commento dello stesso La Galla, che afferma, ad Alessandro Aricò, nuovo assessore all'istruzione e formazione professionale della regione siciliana, un sincero in bocca al lupo. Il ruolo che è stato chiamato a ricoprire è quanto mai strategico per il futuro della nostra terra? Lo so bene. La conoscenza, i modelli educativi, le competenze specifiche e la formazione rappresentano i pilastri sui quali edificare una Sicilia più moderna e consapevole. Buon lavoro. E la deputata e portavoce regionale di Diventerà Bellissima, Giusy Savarino, accoglie così la nomina del collega Aricò. Sono veramente felice che Alessandro Aricò, politico attento e capace, sia stato designato assessore alla formazione dal presidente Musumeci. Con Alessandro in questi anni non solo abbiamo costruito insieme Diventerà Bellissima, ma abbiamo costruito un rapporto di amicizia vero e solido, per cui gioisco insieme a lui e alla sua famiglia per un meritato traguardo che sento anche mio.